Ciao a tutti, sono Selene Lorenzin, tesista magistrale di Biologia presso il Laboratorio di Farmacologia e Biologia Molecolare della professoressa Barbara Costa e della dottoressa Michela Ceriani ed in questo breve video vi presento il mio progetto di tesi dal titolo Modello di cultura neurale umana 3D, un nuovo approccio terapeutico per il trattamento del morbo di Alzheimer. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla morte selettiva dei neuroni colinergici del sistema nervoso centrale, causata dalla presenza di placche a livello extracellulare composte dal peptide a beta e dalla presenza all'interno del neurone di grovigli neurofibrillari costituiti dalla proteina tau-iperfosforilata, la quale è coinvolta nella stabilità dei microtubuli che sono importanti per il trasporto e il rilascio dei neurotrasmettitori. Si riconoscono due forme di Alzheimer, una familiare e una sporadica che ha incidenza maggiore. Purtroppo ad oggi non esistono trattamenti risolutivi ma solo sintomatologici come gli inibitori reversibili dell'acetilcolina esterasi. In letteratura esistono diversi modelli per lo studio del morbo di Alzheimer. Un esempio sono i modelli murini, il cui problema è la differenza tra neuroni umani e murini oltre che l'espressione alterata di alcuni geni. Un altro modello utilizzato sono le cellule staminali neurali, ma i problemi che sono stati riscontrati sono la mancanza di attività elettrica e la presenza di una cultura mista. Infine, anche utilizzando come modello le cellule staminali pluripotenti indotte dall'uomo, è stato riscontrato lo stesso problema di cultura mista composto da neuroni, astrociti e microglia. Per definizione, un neurone è una cellula elettricamente eccitabile che comunica con altre cellule tramite connessioni specializzate chiamate sinapsi. Inoltre, un neurone ha un'attività elettrica sincrona spontanea, importante per garantire l'affidabilità della trasmissione sinaptica, della plasticità e dell'elaborazione delle informazioni. Pertanto, lo scopo di questo studio è creare un nuovo ed efficace modello 3D di differenziamento neuronale che permetta di ottenere una rete funzionale e di valutarne sia l'attività elettrica spontanea che indotta. Partendo da questo, abbiamo provato a sviluppare un modello che superasse tutte le problematiche riscontrate nei modelli precedenti, partendo da una linea cellulare di neuroblastoma umana tramite una fase di predifferenziamento dalla durata di 7 giorni e una fase di differenziamento vera e propria dalla durata di 40 giorni, ciascuna caratterizzata da un medium fatto ad hoc, abbiamo ottenuto dei neuroni maturi. Successivamente, tramite la tecnica del patch clamp, abbiamo analizzato l'attività elettrica e i risultati mostrano che il 100% dei neuroni ha attività elettrica indotta e il 40% ha anche attività elettrica spontanea. Inoltre, tramite operetta, abbiamo visualizzato sia la morfologia neuronale che il trafficking vescicolare. Tramite timelapse, effettuati a un giorno e a 40 giorni di differenziamento, si può osservare la formazione di sinapsi e il trafficking vescicolare, oltre ad un aumento della rete neuronale alle diverse tempistiche. In conclusione, siamo stati primi ad ottenere un modello di neuroni colinergici funzionali con attività elettrica spontanea oltre che indotta. In futuro, questo nuovo protocollo di differenziamento potrà essere utilizzato per lo studio del morbo di Alzheimer e lo screening di farmaci, sperando di poterli somministrare ai pazienti, e lo studio del microambiente neuronale composto da microglia, astrociti e neuroni. Grazie per l'attenzione!